Giusy, è passato un altro anno, il 2021 si sta lasciando, un anno di educazione finanziaria con Restart e un buon Natale, Giusy, cosa dici? Sì, un buon Natale a tutti e mi raccomando sempre un piccolo pensiero ai vostri risparmi e alla vostra pianificazione e una buona educazione finanziaria. Buon Natale! Buon Natale e buon 2022! Noi saremo ancora qui su WellTV con nuovi racconti, nuove imprese, nuovi racconti di imprenditori e le loro storie. Buon Natale e buon Natale!